Il dono della gentilezza Il dono della gentilezza è il nuovo progetto dedicato all'IRC nella scuola dell'infanzia, composto dalla guida didattica per l'insegnante e dai quaderni operativi suddivisi nelle tre fasce d'età, 3 anni, 4 anni e 5 anni. Il percorso didattico si sviluppa attorno al principio di gentilezza, sottolineando il valore delle azioni virtuose e positive, narrate nei principali episodi biblici. L'unità finale Io sono gentile, strettamente correlata all'educazione civica, invita i bambini ad attuare nella propria esperienza di vita azioni gentili verso se stessi, gli altri e ciò che li circonda, valorizzando i concetti di cura, rispetto, intercultura e pace. La guida didattica offre all'insegnante racconti e momenti di riflessione, attività e atelier creativi, da fare in gruppo o in autonomia, supporto audio e filastrocchie animate. Cosa aspetti? Datti da fare e scopri culture vicine o lontane. Contenuti per la LIM. Modelli fotocopiabili, disponibili anche in PDF. In allegato omaggio alla guida troviamo un CD, con canzoncine e basi musicali. Ogni bimba al mondo è diventato più gentile, segui il buon esempio, forza prova, c'è anche tu! Cartoncini ritagliabili e memory cards, per realizzare attività interattive. Tre poster, tra cui Il calendario dell'avvento della gentilezza, Lo sfondo per il presepe, Pace e intercultura, con i bambini marionetta da spostare. I quaderni operativi affiancano i bambini nella comprensione dei concetti proposti e li aiutano a maturare scelte consapevoli. Arricchiscono gli album i materiali ritagliabili, come la coccarda della pace, la lanterna di San Martino, i biglietti per le feste e il diplomino di fine anno. Percoriamo insieme la strada della gentilezza! Grazie!